E' scattata lo scorso sabato 13 aprile l'operazione spiagge pulite con il monitoraggio dei rifiuti sul litorale nel comune di Castellabate insieme all'amministrazione comunale che ha voluto fortemente l'iniziativa, anche la capitaneria di Porto, legambiente Campania Olus, il circolo locale Una vita per il mare, le associazioni e l'istituto comprensivo Castellabate insieme agli operatori della SARIM e della Castellabate Servizi SRL. Quanto è importante far partecipare i cittadini e i ragazzi a questo tipo di manifestazioni? E' importantissimo ovviamente, è una manifestazione simbolica che noi facciamo sul territorio per avere questa sensibilizzazione, è importante però avere cura dell'ambiente, avere cura di questi temi e soprattutto sensibilizzare. Poi c'è un'azione sul nostro litorale che noi facciamo, con la quale partiamo nei servizi affidati, oltre allo spazzamento anche la pulizia delle spiagge, per cui ci sarà e impiegheremo del personale solo ed esclusivamente per la pulizia delle spiagge. Però con questa iniziativa ovviamente si vuole sensibilizzare e soprattutto educare al rispetto dell'ambiente, al rispetto della natura, partendo dai più piccoli, partendo dalle scuole. E' un'azione di sensibilizzazione importante con la cittadinanza che stiamo facendo. La stiamo facendo a tutto tondo perché partire dalla differenziata, all'utilizzo della plastica, partire dalle menze scolastiche, le scuole. Quindi stiamo facendo un'azione di sensibilizzazione molto importante, devo dire, sul tema dell'ambiente. Le comenza, le case dell'acqua, che hanno una doppia funzione, quella di fornire acqua e soprattutto abbattere l'utilizzo della plastica. Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, ricordiamo che noi abbiamo installato tre colonnine a Castellabate, Santa Maria, abbiamo San Marco, adesso installeremo un'altra, e un'altra nel parco di Villa Matarazzo, quindi abbiamo questa dotazione anche per quanto riguarda le auto elettriche. E quindi, voglio dire, sono tutte azioni che, combinate fra loro, messe insieme, vanno nella stessa direzione. Castellabate sta facendo passi da gigante nella tutela, nella conservazione ambientale. Siamo un comune che si attesta intorno all'80% di raccolta differenziata. in due mesi dall'avvio di questo nuovo sistema rivoluzionario, che sta cambiando le abitudini, la mentalità organizzativa dei cittadini del comune di Castellabate. E noi questa mattina che cosa abbiamo voluto fare per il quarto anno consecutivo? Di estendere ancora di più questa sensibilizzazione, questo coinvolgimento, che deve partire dal basso, dalle scuole e dai bambini. E noi questa mattina, ringrazio della presenza quindi le scuole, ringrazio della presenza Le Gambiende, nella persona del presidente regionale di Le Gambiende, ringrazio gli operatori, che stamattina ancora una volta dimostrano l'attaccamento, l'attenzione verso la crescita di questo territorio. Siamo un comune che ha installato ben cinque case dell'acqua. E va nella direzione di ridurre quanto più possibile l'uso della plastica. Distribuiremo di qui a breve dei contenitori in vetro per prelevare acqua potabile da queste casette dell'acqua. E siamo l'unico comune, lo posso dire ad alta voce, ad aver installato in ben 37,1 km2 ben cinque casette dell'acqua. Questo che cosa significa? Significa incentivare i cittadini ad un utilizzo e un uso corretto dell'acqua potabile, facendo a meno di una tipologia altamente inquinante che è appunto la plastica. Ricordo ai cittadini un po' più distratti, meno sensibili rispetto a queste tematiche, è un comune turistico per eccellenza. E oggi noi stiamo tramutando in fatti concreti questo che è un motto a livello oramai nazionale, quello appunto di andare nella direzione di abolire definitivamente la plastica e di sostituirla con materiali meno inquinanti. Questa mattina come è andata? Facciamo un po' un bilancio. I ragazzi si sono divertiti non soltanto a raccogliere i rifiuti ma anche a monitorarli, quindi a segnare quale rifiuto è stato raccolto. Esattamente, i ragazzi sono stati stupendi. Hanno scensito 100 metri lineari, ad uno ad uno hanno contato e hanno catalogato i rifiuti. Quindi da le cannucce di plastica, mozziconi di sigarette, ora abbiamo un quadro di quanti rifiuti ritroviamo spiaggiati sulle nostre coste. Un'operazione che si affianca alla pulizia simbolica perché è un'operazione della cittadinanza scientifica che entrerà poi in un dossier, il dossier Beach Letter, un dossier nazionale che ci racconterà appunto i rifiuti che noi troviamo sulle nostre coste. Quindi è importante affiancare a direttive europee, ordinanze locali, una grande azione, una grande opera utile che è quella dell'educazione ambientale. È stata un'organizzazione sinergica, è proprio quello che funziona. Quando in una comunità, dalle amministrazioni alla scuola, all'ufficio pubblico, tutti i settori riescono ad agire insieme, non diventa più il comune riciclo, ma diventa una comunità circolare. Quindi il gioco di rete, il gioco di squadra, la sinergia è alleata dell'ambiente.